Bravo sei, in silenzio radio di Call of Duty ogni giorno vi aspetto oggi 13.30 live sulla piattaforma viola finalmente è sabato quindi faremo un sacco di ore dove giocheremo con i sub e approfondiremo tutte le notizie della giornata Instagram e Telegram per gli aggiornamenti in tempo reale sui miei social e la mia collaborazione con Encontrollers se volete regalare un bel controller completamente personalizzato utilizzando il mio codice sconto trovate tutto quanto nei link in descrizione partiamo subito come sapete con l'aggiornamento di metà season 1 è stata introdotta una nuova mappa chiamata Sanatorium mappa giocabile all'interno della modalità Fireteam quindi in una sorta di guerra terrestre vi faccio vedere una piccola panoramica della mappa per farvi capire come è strutturata come potete vedere sembra essere un vero e proprio Blackout 2 quindi una sorta di mappa che ricorda la Battle Royale di Black Ops 4 bene i rumors come più volte vi ho riportato in queste settimane ma anche in questi mesi hanno più volte ricordato e svelato che potrebbe essere una delle parti della prossima mappa di Warzone ma al momento questa notizia non è mai stata né confermata né commentata da Activision nei giorni passati vi avevo riportato anche una sorta di bozza che era arrivata in possesso di Modern Warzone in base appunto alla possibile struttura con la mappa Zoo di Black Ops 1 con la mappa Summit di Black Ops 1 con pezzi anche delle mappe sempre di Coldware oltre ovviamente a Sanatorium anche di Ruka e di Alpine vi terrò aggiornati appunto nei prossimi giorni in merito a questa cosa però ragazzi sembra essere sempre più sicuro secondo appunto queste informazioni questi leaks che la nuova mappa di Warzone sarà composta da una vera e propria da un vero e proprio zoccolo duro della saga multiplayer dei vecchi Black Ops più Cold War vi terrò aggiornati fatemi sapere intanto qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa nuova mappa Sanatorium e di questo genere di modalità Fireteam introdotta all'interno di Cold War vi do un'altra importante informazione che è stata poi trapelata ieri da TGR ieri il leaker The Gaming Revolution in risposta a Drifter che chiedeva se la mappa Sanatorium sarà giocabile nella Bat Royale perché è veramente grandissima conferma che è soltanto una parte della futura mappa di Warzone e ci sarà bisogno di un gran numero di giocatori quando sarà completa quindi che significa? che non saranno più 150 giocatori ma saranno di più? saranno 200, 250 al momento non hanno commentato in più rispetto a questa notizia considerate anche il fatto che secondo le informazioni di Modern Warzone la mappa dovrebbe essere un 8x8 quindi molto più grande e completamente giocabile rispetto a quella attualmente come vi dicevo di Verdansk dove anche se è più grande la superficie molti dei confini che sono stati introdotti non permettono di giocare tutta la superficie rimanete sintonizzati perché sicuramente nel mese di febbraio comincerà ad arrivare la ciccetta ancora più concreta in merito al futuro di Warzone bene vi faccio vedere un nuovo record mondiale conquistato dal giocatore Ryland in singolo con 44 kills il giocatore non ha vinto la partita perché l'ha persa con il glitch appunto della siringa infinita quindi è arrivato secondo non è possibile verificare il rato di questa lobby perché come avete visto Activision ha rimosso per problemi per motivi di copyright tutte le informazioni relative ai rati farò un video molto probabilmente domani dove vi spiegherò tutto il funzionamento che cosa è accaduto e soprattutto come poter fare per poter ripristinare questa funzionalità durante la season 1 come avete visto e come vi ho riportato nella giornata di ieri arriverà la tanto attesa modalità lega classificata dato che ieri me l'avete chiesto in tantissimi ragazzi treier che non ha ancora rilasciate informazioni se una volta che sarà introdotta la league play potremmo vedere rimosso l'SBMM quindi lo skill based matchmaking nella modalità pubblica multiplayer video raggiornati una cosa a cui tengo anche io perché vorrei sinceramente tornare a giocare ogni tanto qualche bel sano multiplayer anche per livellare le armi senza però scendere con l'asciugamano sul collo insieme all'aggiornamento di Meta Season è stato anche aggiunto nel negozio del gioco un nuovo bundle chiamato Assassino Ripudiato al costo di 1600 Call of Duty Point contenente una skin leggendaria per l'operatore Portanova un progetto arma leggendario per la nuova arma corpo a corpo introdotta la Waki Zashi e diversi oggetti cosmetici vi ricordo che potrete sbloccare ovviamente la spada anche facendo la versione base questo ovviamente è soltanto una variante estetica la 3RK ha annunciato che il 4 di febbraio quando sarà giunta la mappa Firebase Z la mappa nuova per quanto riguarda Zombies sarà per la prima volta nella storia di Call of Duty che una mappa Zombies verrà rilasciata su tutte le piattaforme nello stesso giorno e completamente gratuito nei precedenti code come sapete le mappe Zombies venivano introdotte soltanto tramite DLC a pagamento e sono state introdotte per la prima volta sulla piattaforma Microsoft perché le prime collaborazioni di esclusiva temporale erano tra Microsoft ed Activision e successivamente sono passate in mano a Sony analizzando inoltre la roadmap aggiuntiva dei contenuti per la Season 1 è possibile vedere un'arma molto particolare impugnata dal soldato al centro come potete vedere la roadmap è principalmente incentrata su quello che sarà il futuro soprattutto di Zombies le munizioni sembrano essere a batteri a celle di fusioni simili alle munizioni della Reagan e il design dell'arma sembra molto ispirato alla Wonderwaffe di G2 quindi questo darebbe credito anche al cosiddetto fucile a raggi di cui si vociferava nelle settimane passate video ragionate in merito appunto a questa locandina altra importante notizia che è arrivata sempre in queste ore dal Liger questa volta MV2 OG che arriveranno altre 8 mappe del passato all'interno praticamente di Cold War quindi altre 8 mappe Remink arriveranno all'interno del gioco infatti Liger MW2 OG ha detto che almeno 8 remake di mappe del passato arriveranno escluso ovviamente Express che come sapete arriverà all'interno del gioco sempre durante la Season 1 ma tra queste addirittura troveremo la storica standoff una delle mappe ragazzi che abbiamo amato di più per quanto riguarda il multiplayer da ieri sera inoltre sono attivi i doppi punti arma quindi potrete livellare molto più facilmente le armi su Warzone e su Coldor vi ricordo che inizialmente era tutto fissato o meglio scadevano il 19 gennaio alle ore 19 la Treyarch ha prolungato appunto questi doppi punti fino al 21 gennaio alle ore 19 quindi approfittatene e livellate più possibili le armi che dovete far salire di grado perché sono veramente molto lenti quelle di Cold War da livellare chiudiamo il video informativo con un'altra notizia sempre relativa ai bundle ieri sera è stato aggiunto nel negozio un nuovo bundle chiamato Disboscamento al costo di 1200 Call of Duty Point contenente una skin epica per l'operatore Sims e diversi oggetti e cosmetici e con questo ragazzi chiudiamo il nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty come sempre noi ci vediamo alle 13.30 in live passate anche per un saluto e ci facciamo due risate insieme oggi finalmente è sabato e si può giocare un bel po' di orette in vostra compagnia lasciate l'iscrizione se siete nuovi qui su YouTube e attivatevi la campanella per non perdere il TG Code giornaliero e noi ci vediamo come sempre pure sempre qui su YouTube con un nuovo TG Code